Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware degli ESC BL-Eli 30A2. Aggiornare il firmware degli ESC è importante per avere un volo sempre più stabile e preciso. In ogni caso durante tutta la procedura di aggiornamento è estremamente importante rimuovere le eliche. Questo perché i motori potrebbero avviarsi senza preavviso alla massima potenza causandosi danni a cose e persone. Per eseguire l'update ci serviremo del metodo betaflight passthrough, ovvero aggiorneremo gli ESC tramite il flight controller con installato betaflight. Per iniziare andiamo sul sito blely32.com e clicchiamo su download. Poi clicchiamo su Lastest BL-Eli Suite Ora spuntiamo il file BL-Eli Suite 32 e clicchiamo su download. Dopo ancora su download. Una volta completato il download estraiamo la cartella e cancelliamo l'archivio zip perchè non ci serve più. Apriamo la cartella e clicchiamo sull'eseguibile BL-Eli Suite 32. Colleghiamo la batteria e il flight controller al PC. Prima di tutto andiamo su interfaccia e selezioniamo BL-Eli 32 bootloader, betaflight, client flight. Dopo scegliamo la porta COM corretta e clicchiamo su Connect. In questa schermata lasciamo tutto di default perchè il sistema riconosce in automatico il modello dei nostri ESC e ci fa installare l'ultima revisione firmware disponibile. Quindi clicchiamo su OK, poi diamo YES e partirà il processo di aggiornamento. Una volta terminato clicchiamo su OK, il firmware è installato. Se abbiamo più ESC ripetiamo l'operazione per ognuno di essi. Ora possiamo scollegare tutto. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware degli ESC BL-Eli 32. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.